Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 2 giugno 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo gemelli. Frizzanti come una minerale effervescente naturale. Simpatico festeggiare il compleanno o chiudere la serata con un cielo così sereno, di questo potete ringraziare la bella venere a braccetto con il sole e giove nel vostro segno, per di più amica della luna appassionata in ariete e del magnetico plutone in acquario. Voglia di colori e profumi delicati, dalle tinte pastello a quelle sfiziose degli indumenti estivi, lo shopping in boutique fa il paio con la spesa dall'ortolano, rosso ciliegia, verde kiwi, viola prugna, giallo melone, così freschi e colorati sarete tutti da mangiare. Le spese con gli amici, però, sono un'arma a doppio taglio, potrebbero consigliarvi bene, vincendo alcune vostre esitazioni, oppure convincervi a comprare qualcosa che di fatto non vi soddisfa fino in fondo e probabilmente finirà in un cassetto in attesa del prossimo repulisti. Intanto passando davanti a un fiorista vi fate tentare da un bel mazzo di fiori, lo fate per voi, per allegrare la casa o per un pensierino a una persona del vostro stesso segno, anche lei in data compleanno. Una donna davvero pericolosa, cattiva, malvagia che si potrebbe insinuare sulla vostra strada e determinare pericoli e problemi. Una donna che calunnia, maldicente, triste, che trama o potrebbe tramare alle vostre spalle. Liberatevi presto della tante cattiverie che circolano sul vostro conto, fate una selezione accurata tra gli amici e scegliete solo quelli veramente fidati e fedeli. Una donna rivale in amore o che procura guai per la coppia. Le decisioni vanno prese alla luce di certezze, se ne avete poche, provate a prendere del tempo. Notizie inattese potrebbero arrivare da un momento all'altro. Periodo di stasi nei sentimenti. Non abbiate troppa fretta, molte novità stanno per raffacciarsi sulla vostra vita. Se pensate di essere perfetti, allora non esitate a guardarvi allo specchio e noterete alcuni difetti. Se pensate che passino inosservati agli altri vi sbagliate. Oggi proponete a qualche amica di cui vi fidati di trascorrere qualche ora con voi, magari in giro per la città. Potreste ricevere qualche confidenza che vi tornerà utile. Oggi potreste essere feriti da qualcuno che improvvisamente irrompe nella vostra vita dal vostro passato, prendete le adeguate misure per rintuzzare le offese, senza però agitarvi troppo. Programma un viaggio. Novità da lontano. Intesa speciale con sagittario. Potrà verificarsi qualcosa di insolito. Non essere pessimista. Non è da te. Giorno discretamente positivo con buone possibilità di realizzare i tuoi desideri. Le prospettive di trascorrere del tempo insieme alla persona a voi. Cara non vi distolga oggi dai vostri consueti impegni. Restate concentrati e non fatevi sorprendere distratti. Messaggi strani sul cellulare se nati di domenica. Giove vi pungerà a curiosità e indagherete. E non potrebbe trattarsi di errori. Un firmamento astrale decisamente favorevole all'espressione dei vostri desideri si schiarisce quest'oggi. Il sole è ospitato nel vostro segno dei gemelli e gli si accompagna la legge a Gravenere e uno scoppiettante Giove. Tutti innalzano il livello del vostro tono vitale, dell'energia psicofisica, del desiderio di stare in mezzo alla gente. È vero ci sono Saturno e Nettuno, dal segno affettivo dei pesci, che tendono a contrastarvi un poco e, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e terza decade, ma nulla di grave. Nella casa paterna curate di più i rapporti in generale tra i vostri cari. Giugno inizia la grande per voi, addirittura con la marcia trionfale, a suonarvela Plutone in acquario ai fiati, la luna arietina alle percussioni e il trio Giove e Venere sole nel vostro segno, il primo alla tastiera, gli altri due alla chitarra. Un complesso favoloso pronto a suonare la musica dei vostri migliori anni e dato che ormai in zona compleanno ci siete arrivati, sarà uno dei vostri amici a fare da disc jockey, un altro ad ammannirvi una cena speciale, seguita da torta stratosferica. Evviva la compagnia, il viaggio, l'amore, la vita. Amore ed Eros. Siete un ramo fiorito, il profumo dell'amore si sparge attorno a voi, fiaccando le resistenze di chi vi sfugge per non coinvolgersi troppo. A una festa sempre al centro della scena, le vostre battute e le vostre risate coinvolgono anche gli altri, alzando immediatamente il livello dell'umore generale. Vittoria perfino sul mosone del gruppo, riuscirete a strappargli una chiacchiera. Venere congiunta contribuisce a rinforzare la fama di grandi amatori, specie se siete nati nella seconda decade del vostro segno. Non vi spingete, però troppo in là e sappiate calibrare astutamente le vostre mosse. Non vi sia estraneo il proverbio d'amor lo astrale ferisce ogni mortale e dunque neanche voi, ora pur così beneficati dal transito di Venere potete dormire sugli allori. Se avete conquistato i favori della Dea, non dateli per scontati e coltivate i sentimenti con dedizione e impegno costante. Lavoro e denaro Iniziativa di compravendita personale, magari l'auto usata, la credenza anni venti e perché no una bici robusta ma leggera per le prossime vacanze. L'interlocutore è un osso duro, ma con la vostra dialettica, unita al fascino, lo terrete in pugno, facendogli fare la cosa giusta e conveniente per entrambi. Svolgete forse un'attività da liberi professionisti e dunque lavorate anche oggi che è una giornata prefestiva. Un bel mercurio, vostro governatore primario, dal buon vicino toro vi infonde la forza per dare il meglio di voi stessi. Benessere. Informissima, sani, belli e snelli. Evidentemente avete il giusto apporto di calorie e principi nutritivi, prova ne è il vostro dinamismo, avete l'argento vivo addosso e non riuscite a star fermi un attimo. Denaro. Venere transitante nel segno esalta la vostra bellezza radiosa. Se amate il mare potete tuffarvi e immergervi nelle sue acque rigeneranti che vi doneranno ancor più fascino, freschezza e tonicità. Per lei, serata esilarante tra amiche spiattellando i rispettivi aneddoti di coppia, attente, ciò che vi fa tanto ridere delle altre potrebbe essere esattamente uno spaccato della vostra realtà. Per lui, dovere d'amico consolare chi si è lasciato con la fidanzata proprio oggi, per offrirgli una spalla su cui piangere trascurate la vostra bella che vi mette subito il muso. Attenti a non fare la stessa fine dell'amico. Colore delle emozioni, rosa orchidea. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!